Un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. La parola invidia, in ebraico quina, significa letteralmente ambizione smodata. Nella concezione biblica è una malattia dell'anima. Salomone la chiama tarlo delle ossa, sì perché tarlare è rosicchiare, consumare, corrodere. Il tarlo marcisce lentamente quello che tocca, non te ne rendi conto. E quando apri gli occhi, tutto è rotto. San Giovanni Crisostomo diceva, allo stesso modo in cui il tarlo distrugge i miei vestiti, così l'invidia consuma la vita. L'invidia non ti fa star male per quello che ti manca, ma per quello che gli altri hanno. Nasce dal confronto e quello che tortura l'invidioso è l'idea assurda che gli altri siano più felici di lui. L'Apostolo Paolo dice ai Corinzi, poiché noi non abbiamo coraggio di classificarci o confrontarci con certuni che si raccomandano da sé, i quali però, misurandosi secondo la loro propria misura e paragonandosi tra di loro stessi, mancano di intelligenza. La follia è il contrasto con la saggezza, è irrazionalità e controlla la vita di molte persone. Domina e soggioga le emozioni, al punto da invalidarci per la felicità. Una persona invidiosa soffre nel silenzio del cuore, agonizza internamente, piange in segreto. E come tante malattie, l'invidia è senza speranza. Essendo una malattia dell'anima, è chiaro che la sua cura, piuttosto che mentale o emotiva, è spirituale. Quando vai a Gesù e apri il tuo cuore, il Signore apre i tuoi occhi in modo da poter vedere una nuova dimensione di vita. Vedi le sfide, gli obiettivi, le altre montagne da scalare e allora non serve per perdere tempo a guardare di lato. La tua lotta non è con gli altri, ma è contro te stesso e allora il successo degli altri non ti farà più male e sei pronto a volare attraverso l'azzurro infinito della felicità. Tu e Dio abbiamo una lunga giornata di crescita interiore, ma non siamo soli. Non provare ad iniziare il processo di recupero da solo. Se lo fai, corri il rischio di finire nel deserto del cinismo spirituale. Apri gli occhi e guarda il sole e la vita, guarda le meraviglie del creato, tu sei parte di quella meraviglia. L'obiettivo della tua vita non è quella di arrivare dove arrivano gli altri, ma realizzare il piano divino per te. Sii felice perché un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. E buona giornata. L'obiettivo della tua vita non è la carie 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 non è la car